Iruzione della polizia nell'ex Scalo Merce abbandonato, la squadra volanti della questura di Lucca ha effettuato un'operazione a sorpresa negli edifici che si trovano a ridosso della stazione, denunciati due stranieri. Nave Open Arms in porto con 196 migranti a bordo, 80 rimarranno in Toscana, 71 andranno in Piemonte e 30 in Umbria, è il sesto sbarco da inizio anno al porto di Carrara. Navetta gratuita a Palatucci-Santa Maria, ma stalli a pagamento anche di sera. Il comune di Lucca cambia strategia nel fine settimana, fino a ottobre per la zona della Movida. Nottolini-Mina Vagante vuole stupire ancora, è iniziata la preparazione della squadra bianconera, agli ordini della nuova coach Mary Malucchi, undicesima stagione consecutiva in B1 per le Capannoresi e roster rivoluzionato. Lollo da record alla Isola Santa Careggi nell'alfiere del Parco Appuane ha vinto in 52-12, ha stabilito anche il nuovo record della corsa giunta alla ventesima edizione in campo femminile, successo della forte Elena Bertolotti. Cordiale saluto a tutti voi e ben ritrovati ancora una volta dagli studi del TGNO e dunque apriamo con l'irruzione che la polizia ha effettuato all'ex Scalo Merci della stazione ferroviaria di Lucca. Vediamo quello che è successo nei particolari. La polizia ha denunciato due stranieri di 33 e 48 anni per occupazione abusiva di immobile. Entrambi gravitavano nella zona della stazione ferroviaria e le volanti hanno scoperto il loro riparo nella struttura dell'ex Scalo Merci a ridosso del parcheggio a pagamento tra la ferrovia stessa e la circonvallazione. Nell'ambito di un'operazione voluta dalla questura di Lucca per frenare fenomeni di degrado che possono derivare dalla permanenza di soggetti dediti ad attività illecite che si nascondono in edifici abbandonati, i poliziotti hanno fatto un'incursione a sorpresa nell'area dell'ex Scalo Merci. All'interno sono stati trovati diversi giacigli di fortuna e soprattutto due cittadini stranieri, un marocchino e un libico, che sono stati denunciati per il reato di invasione di terreni ed edifici. Il cittadino marocchino è inoltre risultato irregolare, con diverse segnalazioni amministrative a suo carico per comportamenti inurbani, per cui a seguito del decreto di espulsione del prefetto è stato trasferito a Milano, scortato da personale di polizia. Ci spostiamo a Viareggio, un arresto per spaccio di droga sul lungomolo della città Viareggina. In attesa che diventi operativa l'ordinanza comunale, che disponeva il passaggio da spiaggia libera a spiaggia attrezzata, dell'embo di Arenila di Acenta al lungomolo, teatro di numerosi eventi criminali dall'inizio dell'estate, le forze dell'ordine vi hanno intensificato le attività di controllo, così come richiesto più volte dai balneari e dagli operatori commerciali della zona. Durante uno di questi controlli, lunedì, gli equipaggi della squadra volante del commissariato hanno rintracciato quattro soggetti extracomunitari di origine marocchina. Tutti erano sprovvisti di documenti di riconoscimento e sono stati accompagnati presso gli uffici del commissariato per ulteriori accertamenti. Le successive indagini hanno fatto emergere a carico di LA23N, pregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Pistoia per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti accertato nell'aprile 2022. Il giovane, dopo gli atti di rito, è stato quindi associato alla casa circondariale di Lucca. I poliziotti hanno invece deferito in stato di libertà EHO, ventenne per ingresso e soggiorno illegale nello Stato. A carico degli altri due soggetti sono ancora in corso le attività da parte dell'ufficio immigrazione. Prosegue inarrestabile lo sbarco di migranti anche al porto di Carrara. Un lungo applauso si è alzato dal ponte della Open Arms appena la nave della ONG accostata alla banchina del porto di Carrara. A bordo i 196 migranti salvati a largo delle coste libiche, tra cui 14 minori non accompagnati. Alcuni dei migranti sono stati trasportati al padiglione di Carrara Fiere in netto anticipo rispetto agli altri, dato che presentavano sintomi di scabbia, mentre due sono risultati contagiati da varicella. Secondo quanto riferito dal prefetto Aprea, la distribuzione sul territorio prevista dal Ministero è di 80 migranti in Toscana, 71 in Piemonte e 30 in Umbria, mentre i minori resteranno tutti insieme in una struttura della provincia di Massa Carrara. Per il porto a Puano si tratta del sesto sbarco di migranti dall'inizio dell'anno, giunto in uno dei momenti di massima tensione politica sull'argomento immigrazione, con il Ministro dell'Interno, Piantedosi, che ha accusato il responsabile immigrazione del Lanci, Matteo Biffoni, sindaco di Prato, di strumentalizzazione dopo la sua denuncia di una situazione ormai a collasso, specialmente per quanto riguarda i minori non accompagnati. Posizione condivisa anche dalla sindaca di Carrara, Serena Arrighi. Io ritengo che Biffoni abbia giustamente esternato quelli che sono problemi reali. Io credo che il Governo abbia iniziato la sua amministrazione con in mente la chiusura dei porti, chiusura dei porti che non è fattibile perché si tratta di arrestare un processo storico e così non può essere. Ad oggi gli sbarchi sono aumentati, è il momento di cominciare a organizzare al meglio perché altrimenti veramente le cade molto sulle spalle dei sindaci e dell'amministrazione locale. Quello che constato è che non si tratta di un'emergenza, si tratta oramai di un fenomeno storico che deve essere gestito in maniera strutturale, soprattutto per quanto riguarda l'accoglienza successiva agli sbarchi, perché gli sbarchi alla fine sono un momento preciso che può essere ben gestito, ma poi dopo queste persone devono permanere sul territorio in maniera organizzata. Torniamo a Lucca per parlare in questo caso di parcheggi e mobilità. Sali sulla navetta, il centro ti aspetta. È questo lo slogan che accompagnerà il nuovo intervento del comune di Lucca sulla mobilità, con l'amministrazione Pardini che mette in campo un provvedimento pilota teso ad incentivare lo scambio fra esterno e centro storico nelle ore serali, cercando di decongestionare Piazza Santa Maria, uno dei principali nodi di accesso al centro storico, e distribuendo la sosta auto su un'area più vasta e gratuita. Da venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 e per i weekend successivi fino al 1 ottobre parte un servizio gratuito di navette che collegheranno ininterrottamente, dalle ore 20 alle 24, il parcheggio Palatucci con Piazza Santa Maria, al ritmo di una ogni 10 minuti. L'altro provvedimento, deciso dall'amministrazione, è quello di prolungare sempre il venerdì, sabato e domenica, l'orario dei parcheggi blu a pagamento di Piazza Santa Maria, piazzale Martiri della Libertà, Viale Carlo del Prete e Borgo Giannotti. La sosta costerà 1,50 euro alla prima ora, fino ad un massimo di 3,50 euro per tutta la serata. Dalla tariffa saranno esclusi i residenti con permesso per la ZTL in Piazza Santa Maria e residenti a 12 B1 per l'area di sosta di Borgo Giannotti. Allora, intanto come tutti avete visto, la riqualificazione di Piazza Santa Maria sta funzionando e sta funzionando bene, proprio in quell'ottica abbiamo pensato di dare uno step successivo, cioè quello di dare una riqualificazione ancora maggiore, migliore e portare una miglioria aggiuntiva a quello che è il flusso dei ragazzi che ogni sera si fanno presso i locali a divertirsi e a fare la nuova vita. Per fare questo abbiamo pensato di estendere il pagamento del parcheggio di Piazza Santa Maria, Piazza Martiri della Libertà, Borgo Giannotti e zone limitate per Borgo Giannotti, Piazza della Croce e le traverse, fino in fondo a Via Salicchi. Quindi estendere la sosta a pagamento, e pagarlo, fare procedere con un pagamento fino alle ore 24. La tariffa sarà una tariffa particolare, sarà una tariffa che costerà 1,50 euro la prima ora, 1,50 euro la seconda ora e della terza ora 50 centesimi per un costo massimo di 3,50 euro. Però cosa diamo in cambio? Diamo la possibilità di raggiungere il centro storico in modo gratuito, in modo sicuro, parcheggiando la macchina al parcheggio Palatucci e lì c'è stata una nuova navetta apposita che ogni 10 minuti prenderà le persone e le porterà in Piazza Santa Maria. Andiamo a Capannori. L'amministrazione Menesini istituisce il 5 settembre come festeggerà appunto la liberazione della città dal dominio nazifascista. Si amplia la via della memoria di Capannori in occasione del bicentenario del Comune. L'amministrazione Menesini ha deliberato l'istituzione del 5 settembre 1944 come giorno della liberazione di Capannori, ricordando la data in cui i partiti antifascisti del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale nominarono l'azionista Giulio Mandoli, sindaco di Capannori. Una data individuata sulla base di una relazione a cura dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea che diventerà una nuova celebrazione annuale per la comunità, in ricordo delle vittime civili e dei membri della Resistenza che in quei giorni dettero la loro vita per la patria. L'amministrazione comunale apporrà una lapida alla scuola primaria di Capannori, in via Piaggia, che all'epoca era identificata come Casa del Fascio. A Monte Carlo fervono i preparativi per la 55esima edizione della Festa del Vino. Vino, buon cibo, ma non solo. Alla presenza del sindaco Federico Carrara è stato presentato il programma completo della 55esima Festa del Vino di Monte Carlo. Un'edizione che dal 31 agosto al 10 settembre accenderà l'antico borgo con spettacoli, degustazioni di vini e prodotti locali, spazi espositivi, stand gastronomici e intrattenimenti per tutte le età. Roberto Forassiepi, rappresentante FISA della delegazione di Monte Carlo e rappresentante anche della Proloco locale, ha annunciato quindi il programma del Salotto del Vino e del Verde, luogo di incontro tra la cucina tradizionale e innovativa e il mondo vitivinicolo montecarlese, che si terrà, come sempre, presso l'Istituto Pellegrini Carmignani. Le serate saranno dedicate al fagiolo di Sorana, ai prodotti dell'Alta Garfagnana, al pescato della nostra costa e alle farine, immancabili gli stand enogastronomici in Piazza Darmi e la degustazione sotto le stelle in Piazza Garibaldi. Tutte le associazioni montecarlesi saranno presenti nell'organizzazione dell'evento, l'amministrazione comunale si impegnerà anche quest'anno nel cercare di rendere il più gradevole possibile e a tutti i visitatori la visita del nostro splendido borgo e li aspettiamo dal 31 di agosto fino al 10 di settembre a degustare presso i nostri stand e presso i nostri punti di degustazione. Per gli amanti dell'arte, da non perdere, la mostra L'arte incontra il vino, curata dal maestro Pasquinelli, allestita all'ex Chiesa della Misericordia. Per l'occasione anche la storica fortezza di Monte Carlo sarà visitabile su prenotazione. Fiano di Pescaglia in festa per il centenario della Chiesa parrocchiale. È stata una giornata davvero importante per tutta la comunità che vive attorno alla Chiesa parrocchiale di Fiano, che domenica 20 ha festeggiato il centenario della sua costruzione e lo ha fatto con una serie di iniziative davvero importanti e ben riuscite. Al mattino la Santa Messa solenne, animata dalla locale corale Donaldo Medi, Fiano e Loppeglia, concelebrata dall'arcivescovo di Lucca, Monsignor Paolo Giulietti, assieme al parroco Don Rodolfo Rossi, alla presenza di altri sacerdoti e trasmessa in diretta sul Noi TV. La Chiesa, completamente gremita, ha visto la presenza anche del sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti. Prima della Santa Messa, Don Rodolfo ha voluto ringraziare tutta la comunità per l'attaccamento alle iniziative e alle attività che gravitano attorno alla Chiesa. Un rappresentante del comitato promotore ha voluto invece ringraziare il vescovo, il sindaco e i religiosi presenti con alcuni omaggi. La sera poi, proprio dalla Chiesa dedicata a San Pietro Apostoli, illuminata a festa, si è mossa la processione al suono della filarmonica di Val d'Ottavo, che ha raggiunto la Madonnina del Pianello per una preghiera alla presenza delle compagnie di Fiano e Loppeglia e San Rocco in Turrite, prima del rientro in Chiesa. Le tradizioni delle Appuane, andiamo a Careggine, in Alta Garfagnana. Appuane in festa è questo il titolo della manifestazione che si svolge ogni anno a Careggine, che vede sempre una notevole partecipazione di pubblico. Questa edizione è iniziata con la sfilata storica partita dal centro Labose e che ha raggiunto il cuore di Careggine per dare vita al tradizionale palio del formaggio. E' proprio lì che abbiamo incontrato la sindaca Lucia Rossi. Appuane in festa, sono due giorni ricchi di eventi, quest'anno in collaborazione con il Parco delle Appuane, ora sta passando il corteo storico, a breve ci sarà il palio, il tradizionale palio del tiro della forma, una tradizione per Careggine. Il palio è una gara di tiro del formaggio con una forma di grana poco inferiore ai 30 kg. Viene assegnato ad uno dei tre rioni in gara, rappresentati da squadre composte da tre tiratori riconducibili ai tre colori sociali, i rossi, ovvero la parrocchia di Capanna e Isola Santa, con Roberto Lazzurri, i fratelli Suffredini, Alberto Erdino. Gli azzurri del centro storico, quindi Careggine centro, con Davide Merigi, Franco Panzani e Piero Pennacchi al secolo Pianacci, e i gialli che rappresentano la parrocchia di Capricchia, con Michael Conti, Marco Raboni e Fabio Angeli. Dopo una gara vincente, caratterizzata da un pubblico straordinario, mai così numeroso, la vittoria è andata ai gialli di Capricchia, che si sono aggiudicati il palio 2023, realizzato dall'artista fornacina Sandra Vigale. Il tutto ha arricchito la diciassettesima edizione di Apuane in festa, organizzata da Comune di Careggine, Parco Alpi Apuane, UC Garfagnana e Associazione Monte Sumbra, e che ha visto tante iniziative, tra quelle più apprezzate le due serate gastronomiche dai sapori locali e la domenica la serata dedicata all'esterno. E con queste antiche tradizioni dell'alta Garfagnana si chiude la prima parte del TG Noi, breve pausa e subito dopo naturalmente alcuni suggerimenti commerciali. Grazie.